Basta a migranti, ma non lo dice così per partito preso, ma lo dice a ragion veduta. Qual è la situazione nella sua comunità attualmente? Beh, è una situazione molto sproporzionata, tant'è vero che stamattina all'incontro col prefetto lui ha riconosciuto questa sproporzionalità, quindi un numero molto elevato, quindi complessivamente ne sono in questo momento 149, si presumono che arriveranno a 190. Quindi è una proporzione 70 per ogni mille abitanti nella mia comunità. In quella particolare zona di Prata, quindi centro urbano, Tavernanova, dovrebbero arrivare 83 su 140 abitanti. Quindi vi lascio intendere a voi. Il prefetto di questo mi ha stupito stamattina, se ne è reso conto, almeno verbalmente si è assunto l'onere e di rievocare l'ordinanza di insediamento di questi migranti per creare una situazione un pochettino più plausibile, plasmabile della comunità, perché ho delle serie difficoltà di panico, di allarmismo. Ho dovuto provvedere allo spostamento di una palina di fermata di bus, trasportarla a 300 metri più giù, lontana da questo stabile, e uno stabile per intero, insomma con otto appartamenti tutto insediato, insomma da queste cose. Non abbiamo, sono ragazzi, vi lascio immaginare le loro ipotetiche esigenze e quindi logicamente la comunità pratese ha ragione ad essere preoccupata in merito.